Allora ragazzi, innanzitutto prima di parlare di Bologna Juve, volevo dire una cosa, oggi questione allenatore, cose varie, oggi facciamo un video un po' più allegro, ho visto l'intervista di Gianni Morandi, quello grande tifoso, altro che Zaroni, grande tifoso Gianni Morandi, e Gianni Morandi quando lo inquadra, mentre fanno una partita, lo vedi che soffre, proprio soffre, è come se fosse lui a giocare, lo vedi con quella faccia tirata, come ogni tifoso, quando c'è l'ansia, quando c'è qualcosa che ti interessa, e Gianni Morandi lo vedi sempre così, e dovete sapere questa cosa, tanti anni fa, vi sto parlando del 93, 94, entro in un'osteria e mi trovo, Gianni Morandi, dentro l'osteria, con la chitarra, con tutte le persone intorno a lui, così, bicchieri di vino con tutte le parti, e Gianni Morandi è un giovanissimo Luca Carboni, ma davvero giovanissimo, aveva i capelli lunghi, e poi all'epoca non c'erano telefonini, cellulari, in cui fare foto, video, tutto qua ciò, è grande, aspettate, e poi non è finita, quindi Gianni Morandi con la chitarra, che stava proprio seduto sul tavolo con il piede sulla sedia, Gianni Morandi con la chitarra, seduto accanto a lui c'era un davvero giovanissimo Luca Carboni, e poi non mi trovai così, pertanto, pertanto, cioè che se ne era andato tre minuti prima Lucio Dalla, che stava insieme a Doro, grandi, grandi, stavano facendo divertire tutte le persone là dentro, così, e c'erano tutti questi bicchieri di vino di Luca Carboni, di Gianni Morandi, e niente, bella proprio, io poi, terete conto che Luca Carboni neanche lo conoscevo, cioè, ancora non era, diciamo, il Luca Carboni che conosciamo oggi, quindi l'attenzione era tutta per Gianni Morandi, grande Gianni Morandi, e altro che Zazzaloni, eh, e, ragazzi, chi ha visto la partita ieri, della Juve, io dico sempre una cosa, no? Sì, esistono belle squadre, no? Come l'Atalanta, e, fatte di schemi, e, un allenatore che sa lavorare, però poi alla fine, ragazzi, quando c'è una partita secca, la qualità viene fuori, e la Juve, io ne dico tante, avete visto, no? Quante, mi dico la Juve, però la Juve, ragazzi, è piena di qualità, piena, piena, piena di qualità, c'ha quel Blauvic, che quando è in giornata, avete visto, no? Ieri, gol, gol annullato, e tre gol quasi fatti, spiorati per niente, un rigore non dato, perché c'era un rigore solare all'inizio del secondo tempo, con il giocatore dell'Atalanta, che va proprio così, e butta fuori, Blauvic, fuori dal campo proprio, di, io non so davvero, certe volte, cioè, ammettiamo che la Juve avesse perso quella partita, no? Ieri, cioè, come giustifichi un rigore del genere non dato, tu arbitro, no? O tu VAR, ma quello non c'è, cioè, sì, il VAR, mamma mia, il VAR, ormai abbiamo capito come funziona sto VAR, decidono loro chi deve vincere, chi deve perdere, chi deve avere il rigore e chi no, però, ragazzi, ieri quello era, rigore tutta la vita, tutta la vita, ve lo dico io, che ti favo Atalanta, quindi immaginate un attimo, però la qualità, ragazzi, di questa squadra, a parte il fatto che la cosa buona, diciamo, che mi piace della Juve è la compattezza difensiva, no? Cioè, non sono belli da guardare, anche se ieri sono stati belli da guardare, però, diciamo, in generale, in linea generale, non sono belli da guardare, ma quando ti fanno il gol, è un'impresa titanica, impossibile quasi, pareggiare, è un'impresa titanica, tu quella difesa non riesci proprio a fargli male, una volta che passano in vantaggio, magari, perché? Perché ci mettono due uomini ancora in più dietro e ciao proprio, poi avete visto, no? Senza Locatelli, un'altra Juve, un'altra Juve, quando non gioca a Locatelli, si alza la qualità della Juventus, si alza proprio, l'asticella proprio, arriva a livelli, e ieri la Juve ha dato una lezione di calcio all'Atalanta, ce lo dico con rammarico, davvero, io ti favo Atalanta, ragazzi, questa è la Juve, cioè, secondo voi, questa è la Juve che troveremo lunedì? No, queste sono squadre che, in una partita secca, danno tutto quello che hanno e hanno tanto da dare, e poi, in campionato, quando devono distribuire tutte le loro energie nelle 38 giornate, non le vedi così, non le vedi così le grandi squadre, la Juve, la Juve di quest'anno in campionato è stata davvero poca roba, molto inferiore alla Bologna, quindi ieri c'era un amico che commentava, caspita, se questa è la Juve allora sono guai per lunedì, no, la partita di lunedì sarà totalmente diversa da quella di ieri che era una finale, per la Juve non è una finale, anzi, lo è più per il Bologna che ha piacere a sconfiggere una Juve, che è per la Juve stessa, che secondo me ha dato tutto ieri, ha dato tutto ieri, quindi arriverà anche un po' con scarica a Bologna. Ragazzi, chiudo, ho detto, oggi facciamo un video un po' più soft, perché io mi sto rompendo con questa questione al venatore, mi sto davvero rompendo. ho letto una storia amiciliare stamattina del pensionato che a ottobre si era giocato 10 euro sul Bologna in Champions, lo davano a 100, ha vinto 1000 euro, grande il pensionato di Castelmaggiore, grandissimo, perché, ehi ragazzi, andate, buttate le 10 euro a ottobre, sembrano poche, però poi, dice, ma perché devo fare, ora faccio uno scommesso per sabato, per domenica, che devo giocare uno scommesso che finisce a maggio, quello si è giocato 10 euro e ha vinto 1000 euro e io sono contento, spero, per quella persona vi auguro tanta felicità e tanta salute, ciao.